E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte andremo ad approfondire quello che è il mercato quello che è stato il post halving quello che sta accadendo alla rete bitcoin che è super congestionata cerchiamo di capire quali potrebbero essere i nuovi trend ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento è venuta tanto col canale e se siete nuovi ricordate di iscrivervi con clic sulla campanellina prima di essere sempre aggiornati insomma lo sapete quanto sia fondamentale rimanere sul pezzo in questo settore che si muove alla velocità della luce siamo tornati dal token 2049 e appunto purtroppo non sono stato in grado di fare in quei due giorni particolari video proprio perché la connessione non era il massimo soprattutto per caricare un video intero e quindi ovvio ho aggiornato comunque attraverso delle storie con un piccolo video qua su youtube ma insomma è stata un'esperienza molto interessante soprattutto perché ne parleremo nei prossimi giorni si è discusso di parecchi temi e soprattutto di quello che potrebbe essere insomma sempre le narrative del futuro ma partiamo intanto comunque perché oggi abbiamo un sacco di cose da dire sulla prima notizia c'è quella di grayscale grayscale sapete essere uno dei principali no etf al mondo proprio per capitale gestito questo perché esiste dal 2013 se non sbaglio ed era prima un trust privato che si è andato a convertire in un fondo etf con l'ultima approvazione della sec bene è andato a costruire un mini bitcoin etf che avrà un ter quindi una fee di gestione dello 0,15% sarà quella più piccola presente sul mercato in realtà oltre ad essere appunto l'etf più economico sul mercato in realtà contribuirà solamente il 10% dei gbts quindi non vale per tutti vale per una parte questo perché probabilmente si sono resi conto anche loro che il rischio di mantenere continuamente una fee all'uno e mezzo diventasse un pericolo proprio per la sopravvivenza di grayscale che ormai da quando è stato approvato l'etf ha visto solo fuori uscite quindi non ha mai visto ingressi di capitali vedremo se la cosa sarà apprezzata o meno dai detentori però potrebbe sicuramente andare a frenare leggermente quella che è l'outflow che sta continuando ad avere e quindi anche un pochettino se vogliamo gli smottamenti che crea sul mercato perché anche il fatto che vadano a vendere per poi andare a comprare altri etf possono portare se non fatto col timing corretto diciamo anche se vengono scambi principalmente OTC però si rischia insomma che si possano creare degli smottamenti di mercato nell'intraday abbastanza forti dovuto a questo andiamo ora a vedere un grafico che è molto interessante a mio parere che è quello dell'MVRV che cos'è? è un indicatore di momentum fondamentalmente che va un pochettino a darci un'idea di quella che è la narrativa insomma di mercato quello che è il momento positivo o negativo di mercato ve la cerco di rendere il più semplice possibile ecco che in realtà troviamo una situazione molto strana cioè ogni volta che questo indicatore va a crociare ribassista la sua media a 90 giorni abbiamo un ritorno medio nel periodo successivo che è di circa 60% lo vedete proprio qua da questo grafico dove ogni volta che vedete questo indicatore ha crociato ribassista la sua media a 90 dopo prima di arrivare al suo top l'ha fatto circa sul 63% qua è un più 58 con più 28 con più 98 l'ultima volta un più 91 vedremo anche che questa volta potremo avere un indicatore di quel genere lì ovvio che dovrebbe dire portarci il prezzo nelle zone dei 100k ok? quindi non lo so se avremo gli stessi ritorni ma sicuramente è un indicatore che storicamente ha sempre portato un buon segnale con sé fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e appunto ne discutiamo insieme invece siamo arrivati al nostro famoso halving abbiamo fatto un video a riguardo vi ho parlato appunto di come tutto questo è comunque un argomento già interno al mercato già apprezzato all'interno del mercato molto probabilmente viene comunque gestito appunto a posteriori ma la cosa importante anche da sottolineare a parte la compressione di offerta che viene generata appunto dalla riduzione dall'alimezzamento della block subs di bitcoin quindi passando da 6 virgola a 3 virgola bitcoin emessi per ogni blocco ecco che andiamo nella direzione di un aggiornamento quindi gli effetti dell'halving li vedremo nel lungo termine questo è poco ma sicuro nel senso che oggi la notizia è già apprezzata non c'è stato nessun sell the news come avevamo già detto in questo momento non c'è stato particolare sell the news ma andremo a vedere nel tempo se con un proseguimento di domande elevato questa offerta chiaramente andrà a creare uno shock questo è fondamentale da capire da comprendere ma siamo andati in una direzione che ha creato un po' di polemiche cioè vedere le fee andare alle stelle perché le fee sono tutte le stelle e vedete come in realtà oggi anche questa mattina i costi di transazione arrivano a 10 dollari di media in realtà siamo arrivati anche a pagarne 200-300 dollari per transazione perché le commissioni si stanno alzando a causa di questi runes cosa sono i runes? allora non ne parlerò in maniera approfondita in questo video se no diventa un video dedicato ma sono delle sorte di tokens mettiamola così scambiabili attraverso UTXO cosa sono? sono il metodo per scambiare bitcoin all'interno del network bitcoin che è un processo di spesa e resto come se voi andate a usare delle banconote e andate a pagare 10 euro e ne avete spesi 8 e vi danno 2 euro di resto in questo modo qua si riesce a creare fondamentalmente una sorta di token smintabili e scambiabili tra il network bitcoin e questo aggiornamento con questa feature è arrivato all'interno proprio dell'Halving quindi in questo blocco qui ok dell'Halving e da lì in poi si stanno andando a mintare guardate ad esempio queste Satoshi Nakamoto 16 milioni e 8 di pezzi tutti mintati quando avete il 100% voi siete stati mintati tutti e ovviamente mintare questa roba è gratis è gratis ma comporta inserire transazioni nel network e quindi di conseguenza andare a renderlo intasato tutte queste 343 pagine di runes chiaramente vanno a impattare vedremo se sarà un trend come gli ordinals oppure se sarà un trend che è destinato a morire o altro secondo me potrebbe avere comunque un suo senso perché comunque ormai il mercato bitcoin lo conosciamo molto bene sappiamo essere estremamente irrazionale su alcuni aspetti ma prima di passare ai gainers e ai losers vi ricordo di dare un'occhiata ad Afterside stamattina se ce la faccio o no exclusive con qua sotto con tutte le promo dedicate per la community per il canale trovate tutti i modi per entrare anche nei gruppi strategies gli account devono essere attivi ragazzi perché ci avete scritto in tantissimi appunto i ragazzi stanno seguendo tutti quindi non vi preoccupate li chiamo a tutti ma devono essere attivi quindi vuol dire che dovete averli utilizzati ok se no non ha senso anche fare un gruppo dedicato insomma ai supporters quindi per l'exclusive vale questa cosa qua invece per gli altri è tutto appunto abbinato quindi se avete anche già un account potete rifarlo per appunto sfruttare queste promo io vi ringrazio chiaramente perché sostenete il nostro lavoro la possibilità di portarvi questi contenuti ogni giorno andiamo a vedere quelli che sono intanto i gainers delle 24 ore troviamo Core che fa un più 13 IOS un più 10 Nio un più 7 Niar un più 7 Nio e Niar un più 7 Pepe un più 6 Chainlink un più 5 DNB un più 4 6 un più 4 insomma un po' di rimbalzo da parte del coin anche se qualche loser c'è sempre c'è Nervos un meno 7 WIF un meno 4 Maker un meno 3 ma nulla di particolare nulla di trascendentale questo perché bitcoin si riporta con fatica ma con estrema resilienza dopo aver testato nella giornata del 19 aprile la zona dei 59 e 7 siamo riportati sui 66 mila dollari in questo momento in cui stiamo registrando siamo a 65 e 9 61 sui 66 mila dollari a contatto della 50 12 e 26 e abbiamo per la prima volta diciamo dopo un po' di tempo la possibilità dopo aver perso appunto la zona guerra mettiamola così la possibilità di andare a recuperare la 26 e la 12 per crociarle a rialzo e quindi spingerci nuovamente nella parte alta del precedente all time high quindi nella zona dei 69 mila dollari vedremo se avremo la forza di continuare però sicuramente il mercato in questo momento ci sta dando un po' di un po' di accendo di ripresa attenzione però alla sezione volumetrica che comunque tende a non essere chissà quanto preponderante quindi sempre calma perché non abbiamo particolari volumi a conferma di questo stessa cosa vale per l'open interest dove vedete appunto che abbiamo avuto uno scarico di open interest nonostante appunto il prezzo c'è stato abbastanza stabile e quindi per il momento non abbiamo conferma vedete come effettivamente proprio siano dei parametri che se andiamo a confrontare dei volumi spot con l'open interest quindi con la carne sul fuoco diciamo per quello che riguarda i contratti futures quindi aggregati in stable coin abbiamo proprio un rallentamento ecco e quindi stiamo attenti sempre ai movimenti ai falsi break eccetera 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 da un punto di vista in chiusura di dominance la vediamo un pochettino in difficoltà un pochettino scendere questo vedete si sta andando a ripercuotere su quelle che sono le altcoin anche su ethereum che è andato a recuperare i 3200 dollari dopo aver fatto un viaggetto al di sotto dei 3000 vale lo stesso discorso ragazzi vale lo stesso discorso la rotazione più il fatto che comunque bitcoin possa andare a continuare a essere una in questo momento a recuperare momentum positivo per recuperare e riportarsi sui vecchi oltre mai detto questo ragazzi mi fermo fatemi sapere anche voi cosa è mi state qui sotto nei commenti fatemi sapere appunto la vostra io vi saluto vi auguro tutti una spedita giornata e noi ci aggiorniamo prestissimo con un prossimo video vi ricordo sempre un like un'iscrizione e date un'occhiata ai link che trovate qua sotto intanto a tutti una buona giornata ciao ragazzi